Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è un momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Sibili disagi in A1 per perdita di carico tra chiusi e fabbro per chi viaggia verso Roma. Uno sguardo alla cantieristica in Fipirì, l'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze, ha previsto la chiusura della corsia di marcia per lavori di manutenzione all'impianto di sollevamento idroporo all'altezza del chilometro 68 in direzione mare fino alle 22 di martedì 16 maggio. Vogliamo salutarci per il traffico urbano di Firenze e tra i lavori al via in settimana. Segnaliamo quelli di ripristino della pavimentazione in via degli Alfani e quelli alla rete idrica in lungarno e spucci. Sono previsti i provvedimenti di mobilità. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.